Con Vodafone U la tua ricarica ti premia ogni mese. A settembre parli gratis con tutti. Fai una ricarica da almeno 10 euro entro il 30 settembre e hai 50 minuti di chiamate gratis. Richiedi il premio su voda.it.u o scrivendo PREMIO al 4 26 26. Riceverai un SMS che ti conferma l'attivazione della promo e avrai 31 giorni per utilizzarla. La promo è compatibile con tutti i pacchetti e piani tariffari. Se hai già attivo un pacchetto con minuti inclusi consumi prima i 50 minuti gratis e poi quelli del tuo pacchetto. Cosa aspetti? Ricarica e parla gratis con Vodafone U!